Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 349. Il senatore Cioffi, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Ferrazzi, Steger, Astorre, Perosino, Lapietra, Fantetti, Brizzarielli e Lucidi. Replicano il relatore Cioffi e il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Morando.